gentili telespettatori buona giornata la meloni reputa fiorello un amico ma fiorello è un amico della meloni perché una cosa è quando tu reputi un amico ma l'altro ti reputa un amico io ricordo che una volta siamo andati in vacanza con gli amici in tunisia eravamo in un villaggio turistico con tutti gli amici e io credevo che uno di questi fosse più amico degli altri lo pensavo il grande il mio grande amico e uno di questi mi prende da parte mi dice luca senti non credere che quello lì sia né un grande amico né un amico perché non sai tutto quello che ti dice alle spalle e sono cose anche brutte ah grazie massimiliano non dico il cognome perché non è corretto grazie massimiliano e da lì ho capito che io credevo che uno era un mio grande amico e quell'altro per farsi bello con gli altri non so neanche che cosa dicesse su di me quindi insomma la meloni crede che fiorello è un amico ma fiorello reputa la meloni un'amica perché fiorello non è la prima volta che fa delle battute a sfondo politico non è la prima volta su quella che disse qualche tempo fa sinceramente non me la ricordo in questo momento ma ricordo che aveva fatto delle battute contro la meloni questa volta sai dietro il dietro il fatto è comico è comico no è comico è comico quindi è comico allora puoi dire quello che vuoi quindi se tu ti definisci un comico puoi dire quello che vuoi è un po' come quando saviano dice ma uno scrittore può dire le parolacce alla premire a salvini perché quella lo scrittore ha il diritto di dire queste cose come come saviano crede che lo scrittore possa insultare la gente il comico crede che che può dire che possa dire quello che che gli pare perché è comico è comico ma lo dice per far ridere sono battute sarcasmo è il suo lavoro e così come saviano si nasconde dietro la parola scrittore per insultare gli altri poi finisce in tribunale anche fiorello si nasconde dietro il fatto è comico è un comico è comico e allora le sue sono solo battute cosa dice su giorgia meloni e su giambruno infatti è così comico che molti giornali di sinistra hanno ripreso il fatto come dire a guardalo lì l'amico della premier è l'amico della premier che ogni due per tre tira fuori la battuta contro l'amica e così mi ricorda quel che io credevo grande amico e alle mie spalle me ne diceva di tutti i colori ma qui fiorello non è che le dice alle spalle le dice di fronte di fronte a mezzo stampa ecco in attesa del suo ritorno in tv allora io se fossi la meloni non ditelo io se fossi la meloni sarei un po più un po più cattivello è un po più cattivello io sono fatto così ma un politico non può essere vendicativo non può se io fossi là in cima e trovo uno che reputo un amico che mi fa le battute politiche contro di me poi riprese da tutti i giornali di sinistra messi in prima pagina e allora tu aspetti il ritorno in tv e te lo faccio vedere io il ritorno in tv aspetta che faccio una telefonata senti per il ritorno in tv di quello là non farlo tornare in tv grazie ecco io farei così però insomma ed è per quello che non sono un politico perché il politico deve farsi scivolare addosso le cose sensibilità diverse e così mentre fiorello attende il ritorno in tv io farei quella telefonatina che proprio aveva ricevuto il premio comunicazione nel 2020 prende parte a un'intervista spettacolo con aldo grasso dal titolo da grande vorrei essere la spalla di fiorello pensate un po che bella roba tra i tanti temi affrontati da fiorello dalla nuova italia di luciano spalletti al caro scontrini c'è stato spazio anche per un commento finto ironico sul caso giambruno ma è ironia ma cosa dici ma adesso non si può più fare l'ironia guarda che fiorello è una persona intelligente quando fa una battuta di questo tipo è perché sta attaccando e così lo showman quello che aspetta il programmino televisivo presidente va bene riferendosi alle parole pronunciate dal conduttore tv giambri giambruno e compagno del presidente del consiglio dove diceva mi raccomando ragazzi state attenti a quello che fate in discoteca perché poi fuori trovate i lupi no ecco poi il lupo lo trovi dice fiorello l'opposizione della meloni e il partito democratico no è suo marito quando nel mondo un giambruno parla da qualche parte c'è una meloni che dice ma va fan zoom 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 capito quindi quando nel mondo un giambruno parla da qualche parte c'è una meloni che dice ma va fan quindi sta dicendo che il compagno della meloni quando nel mondo un giambruno parla come dire uno uno di poco spessore uno di quel tipo no quelli che giustificano quelli che colpevolalizzano le vittime quindi sta dicendo che giambruno è un buono a nulla no se tu dici quando nel mondo un giambruno parla da qualche parte c'è un razzista qualunque un chiamatelo come volete parla da qualche parte c'è una meloni che manda a quel paese ecco quindi sta dicendo che l'opposizione è della meloni e giambruno e quelli come lui beh non mi sembra proprio grande ironia poi dato dal fatto che tu reputi la meloni tua amica e la meloni forse aveva anche telefonato in una trasmissione facendo finta di essere un'imitatrice della meloni e poi era lei quindi c'è un rapporto anche simpatico e scherzoso sentirsi dire su un caso che ha fatto abbastanza parlare l'opposizione della meloni non è il pd ma è il suo compagno quando nel mondo un giambruno parla da qualche parte c'è una meloni che lo manda a quel paese questa poteva essere la dichiarazione di schlein di conte della boldrini del furfi ecco lo showman che nascondendosi dietro l'ironia ma è comoco ma è comoco è come grillo e dai ma sono comici sono comici che però poi non fanno ridere i diretti interessati car meloni ancora è tuo amico come il mio amico quello là è ancora tuo amico pronto sì quel ritorno quello là che deve tornare lì col programmino e cancella quel programmino arrivederci a tutti e grazie